24esimo torneo città di jesolo domenica mattina siamo alle battute finali vedete in diretta streaming la semifinale del champion tra andrea de zandonati e catalin vezzeli ormai diverse tavole sono state ritirate la maggior parte delle partite sono finite e qui vedete la semifinale tra sebastian wilson e wolfgang enz